Marco Angoscini, siamo in estate, diciamo che è l'estate di solito lo sport è il beach volley per quanto si concerne il volley. Volley Amore organizza tourney di beach volley. Sì esatto, Volley Amore mi ha appoggiato anche nella figura di Claudio Chiari nella costruzione di questo nuovo evento che è la formazione sulla comunicazione sportiva e la sua applicazione principale è appunto quella dell'organizzazione del circuito Bresciano Beach Volley che è un circuito itinerante che fa tappa ogni fine settimana in un parco acquatico diverso che abbiamo in partnership della provincia di Brescia e della provincia di Bergamo e coinvolgiamo moltissime persone che vengono a fare i tornei in quanto abbiamo diverse tipologie di categorie abbiamo sia il 2x2 quindi quello beach professionale serio, abbiamo il 3x3 che è già più divertente abbiamo i tornei misti e i tornei per i ragazzini quindi gli junior i 3x3 e i 4x4 femminili e proprio settimana prossima il 15 luglio faremo il Big Raduno che è il torneo dove in contemporanea facciamo giocare tutte le categorie quindi dal 2x2 al 3x3 agli junior e il misto per cui se volete avere informazioni e partecipare a questo evento andate sul sito www.volleamore.com dove troverete tutte le informazioni e i nostri contatti sono tornei sempre molto frequentati non solo dai ragazzi ma anche dai più grandi che magari giocano e militano già durante l'anno in alcune squadre tanto per non dimenticarsi anche se è difficile di come si gioca Sì esatto, è ormai più di 10 anni che offriamo questo servizio e ci conoscono anche giocatori di livello nazionale che durante la pausa estiva per mantenere la forma o comunque per divertirsi perché l'aspetto principale deve essere il divertimento vengono a trovarci e rendono qualitativamente il livello dei nostri tornei molto elevato in più fanno spettacolo perché tutte le persone che sono all'interno del parco acquatico che sono lì a farsi una giornata di divertimento vedono anche uno spettacolo di alto livello la cosa fa molto piacere e viene molto seguita e molto applaudita Grazie a tutti